buongiorno a tutti hello everybody welcome back to san leonardo bentornati a san leonardo oggi imbottigliamo il terry today we are bottling terre di san leonardo abbiamo appena installato la nuova linea di imbottigliamento abbiamo appena installato il nuovo bottiglio di banco in questa macchina dove prendiamo le bottiglie le laviamo internamente le riempiamo di giro e le tappiamo so in this machine which is the bottling machine we wash the bottles inside we fill them up with wine and we put on the port then here we have antonio who is testing the pressure which is inside the bottle because we put the course without pressure si mettiamo il tappo sottovole questa invece le lava esternamente le bottiglie le rende veramente belle luccicanti so this is a bottling the machine which washes the bottle outside and makes them really nice abstract and here we go from the capsule quindi qui inseriamo la capsula la rulliamo e finalmente quando la bottiglia arriva la etichetiamo so here we put on the capsule we make it nice and attached and finally here we reach the moment of the labeling which is just one second but here you can see the final bottle which comes out here we have a bottiglia finale serio 2018 questa trasferirà adesso sei mesi in i nostri magazzini a riposare so this bottle will be six months in resting in our bottle in our schedule and here the palace is finished and the rikina ready to send it around the world rikina pronta finire di rikina pronta rikina pronta